Grazie Presidente. Allora abbiamo sottoposto questa interpellanza perché come ormai è cosa nota tutti sanno che i raggi X inducono delle mutazioni che possono trasformarsi in patologie tumorali. Questi danni possono verificarsi sul paziente in forme diverse, possono essere danni somatici, possono essere danni genetici, quindi che colpiscono la progenie, possono essere direttamente proporzionali alla dose espositiva oppure indipendenti dalla dose. E questi ultimi possono a loro volta causare leucemie e tumori solidi. Più sensibili sono organi quali per esempio il midollo, soprattutto nei bambini, il cristallino e la tiroide. Ora, il 26 maggio del 2000 con decreto legislativo 187 viene data attuazione alla direttiva 9743 EURATOM in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche. Disposizione il cui campo di applicazione definisce i principi generali della radioprotezione delle persone per quanto riguarda l'esposizione in ambito di diagnosi e trattamento medico. Il 2 luglio 2007, sempre maggior tutela del paziente, dalla norma citata si estrappola un documento aggiuntivo che è denominato atto medico radiologico ed è stato redato dalla società italiana di radiologia medica, il quale stabilisce che questo atto deve compiersi con la successione di alcuni momenti che ho elencato nell'interpellanza come per esempio la motivata richiesta del prescrivente con quesito clinico, l'inquadramento clinico anamnesico, la necessità che la persona sottoposta all'esame radiologico debba essere adeguatamente informata sui rischi che l'indagine comporta, ma anche sulla possibilità di esami alternativi ugualmente efficaci eccetera. La non osservanza di questa procedura è sempre più spesso causa di danni a pazienti e agli stessi operatori sanitari. La non osservanza di questa procedura crea anche di fatto un potenziale incremento di neoplasie radioindotte e quindi anche un'ulteriore spesa sanitaria futura, l'incremento del numero di prestazioni e della stessa spesa sanitaria con intasamento delle liste d'attesa che porta il paziente a ricorrere spesso a prestazioni effettuate in regime privato, convenzionato o non convenzionato. Quindi, premesso che il Decreto Legislativo 187-2000, l'articolo 14, prevede l'apparato sanzionatorio che dispone arresto e multa per la violazione di alcuni articoli, configurando queste violazioni come contravvenzioni, e che per la violazione della stessa norma compiuta nel periodo intercorrente tra settembre 2010 e luglio 2012, ad esempio in provincia di Lucca è in corso un processo giudiziario, e ribadito che la Direzione Generale Sanità con Decreto 8531 del 1 ottobre 2012 ha approvato il documento tecnico redato da un gruppo di approfondimento tecnico che regola l'organizzazione di un sistema integrato per l'assistenza al trauma maggiore, questo documento alla pagina 6 sembrerebbe legittimare di fatto l'esposizione radiologica dei pazienti in assenza del radiologo. Ho fatto anche presente che in questo GATT, in questo gruppo di approfondimento tecnico, sembra non sia stata contemplata peraltro alcuna figura radiologica, pur essendo radiologo coinvolto nel processo diagnostico e a volte terapeutico, come per esempio nell'arresto di emorragie con embolizzazione in corso di angiografia. Quindi chiediamo all'assessore Mantovani se in tutte le aziende ospedaliere lombarde la normativa che abbiamo menzionato viene effettivamente rispettata o se invece ci sono aziende ospedaliere lombarde in cui non viene attuata, in questo caso quali sono, e se l'assessorato pensa di applicare normative sanzionatorie o altre forme di richiamo nel caso in cui sia stata violata tale norma. In merito ai quesiti posti, con la presente interpellanza, si osserva che attualmente non è a disposizione degli uffici della Direzione Generale Salute un flusso informativo specifico che rilevi appunto le informazioni richieste. Si sta infatti valutando la possibilità di attivare una rilevazione diretta presso le aziende sanitarie. Prema infatti precisare che dal punto di vista organizzativo le aziende sono dotate di adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie per far fronte all'erogazione delle prestazioni nel rispetto delle vigenti norme. Si precise inoltre, con riferimento al menzionato decreto del Direttore Generale Salute dell'1 ottobre del 2012, che le previsioni in esso contenute riguardanti la gestione in urgenza dell'assistenza in trauma maggiore prevedono comunque il coinvolgimento del medico specialista radiologo. Infine, si sottolinea che eventuali singole e specifiche situazioni di criticità organizzative sono gestite direttamente dalle aziende interessate nell'ambito della loro autonomia e ovviamente della loro responsabilità. Non mi dichiaro soddisfatta di questa risposta, Assessore, perché io ritengo che la Direzione Generale Sanità debba essere in possesso e farsi parte attiva al più presto di questi dati perché comunque Regione Lombardia ha un'importante competenza in campo sanitario ma soprattutto in campo di controllo delle nostre aziende ospedaliere affinché appunto si possa verificare che le normative previste siano effettivamente rispettate. Inoltre, non mi ha risposto sull'ultima questione, quella appunto se l'assessorato in caso riscontrasse la violazione di tale norma pensava di applicare delle normative sanzionatorie o comunque delle forme di richiamo nei confronti di queste aziende ospedaliere. Grazie.